Per il terzo anno consecutivo l'economia toscana è cresciuta, poco lo 0,7% nel 2016, ma comunque il massimo che il sistema regionale può esprimere nel contesto italiano. Il dato fa parte dell'ultimo rapporto dell'IRPET presentato nella sede della Giunta regionale. Per quanto riguarda le esportazioni, l'anno scorso l'incremento complessivo non ha superato lo 0,6% a causa delle tensioni internazionali, ma nel primo trimestre del 2017 c'è stato un nuovo picco verso l'alto del 10%, nel 2016 anche l'occupazione è salita dell'1,9%, tendenza che sta proseguendo anche nel 2017. La Toscana si conferma una regione che eccelle, ha commentato il governatore Enrico Rossi, sottolineando una serie di elementi. Il settore industriale intanto si consolida in termini di occupazione, è manifatturiero, la scelta delle imprese dinamiche che investono di più è stata da parte nostra una scelta giusta, continueremo a farla e utilizzeremo quei fondi che abbiamo per stare vicini a queste imprese che investono, fanno fatturato e fanno occupazione e in questo modo fanno traino anche al resto dell'economia. Una crescita al di sotto dell'1% è comunque troppo debole per essere rassicurante, di cui l'indicazione dell'IRPET di rilanciare gli investimenti, problema nazionale e non solo toscano. Senza un rilancio serio degli investimenti noi ritiriamo impossibile che la crescita torni a ritrovare tassi interessanti, tassi superiori all'1%, quindi l'indicazione che diamo è tentare di rilanciare gli investimenti, ma questo vuol dire adottare una politica che deve superare i vincoli europei, quindi si tratta di lavorare con l'Europa e quindi un problema anche del governo centrale, prima ancora del governo regionale. Sempre a livello toscano continua il divario economico e sociale tra la costa e il resto della regione, con tre grandi aree sempre in crisi, Piombino, Livorno e Massa.